Storia della razza. Il gatto dell'isola di Man, è una razza felina originaria dell'isola di Man, che si trova vicino all'Irlanda. Ci sono prove che i monks partecipassero a mostre risalenti al XIX secolo. All'inizio del XX secolo il gatto dell'isola di Man, era già una razza riconosciuta in Europa e negli USA. In effetti, questa razza è stata anche una delle prime ad essere elencata dalla Catfanchers Association. Punti salienti e fatti interessanti. Il gatto Manx è un'antica razza originaria dell'isola di Man, nel mare d'Irlanda. La mancanza di coda del Manx, è causata da una mutazione che probabilmente ha avuto origine nella popolazione locale dei gatti a pelo corto dell'isola, e, poiché è un gene dominante, si è diffusa ad altri gatti dell'isola. Sebbene i gatti originari dell'isola fossero a pelo corto, il gene a pelo lungo fu indubbiamente introdotto durante il lungo regno dei vichinghi, quando le bellezze a pelo lungo, che sono gli antenati degli odierni gatti delle foreste norvegesi, lasciarono le navi vichinghe e si accopiarono con i gatti locali. Il Manx è un gatto che lavora sull'isola di Man, quindi ha un fisico forte, una grande intelligenza, e un temperamento attivo, ma non iperattivo. I Manx sono stati uno dei primi gatti da esposizione. Sono stati presentati alle prime esposizioni di gatti nel Regno Unito. La loro antica eredità continua poiché, erano una delle razze fondatrici quando fu fondata la CFA nel 1906. Per quanto ne sappiamo, tutti i gatti dell'isola di Man, hanno almeno un gene a coda intera. Di conseguenza, anche due gatti portatori del gene Manx, senza coda, possono dare alla luce un gattino con la coda. Inoltre, il gene Manx è un dominante incompleto, quindi anche i gattini che lo hanno ereditato possono avere lunghezze della coda diverse, da una coda completa a una completa assenza di coda. Una cucciolata può avere code di qualsiasi lunghezza. I gatti dalla coda, sono essenziali nei programmi di allevamento Manx e aiutano a mantenere i gatti Manx forti e sani. Numerosi Grand Champions e vincitori regionali e nazionali discendevano da un genitore dalla coda, e il primo gatto Manx a detenere il titolo di meritato campione era una femmina dalla coda lunga. Oltre ad essere senza coda, Manx è noto per il suo aspetto robusto e arrotondato. Questa razza può effettivamente essere disegnata con una serie di cerchi. Ha una testa molto rotonda con guance arrotondate che gli conferiscono un aspetto simile a una mascella, soprattutto nei maschi. Ha le zampe posteriori alte, e le zampe posteriori sono molto più lunghe di quelle anteriori. Il dorso corto forma un arco solido. Gli occhi sono grandi e rotondi, leggermente inclinati verso l'orecchio. Le orecchie sono larghe alla base, si assottigliano in una punta arrotondata. Di medie dimensioni, ben distanziati e leggermente rivolti verso l'esterno. L'orecchio dovrebbe assomigliare a un bilanciere su una culla. Manx è disponibile nelle varietà a pelo lungo, e a pelo corto. Entrambe le varietà hanno un doppio strato che deve essere molto sodo e morbido. I gatti a pelo corto dovrebbero avere un pelo esterno che dovrebbe essere un po' duro e lucido, anche se i capotti più morbidi possono essere visti nei toni bianchi e diradati a causa del rapporto tra colore e consistenza. Gli individui a pelo lungo hanno un mantello setoso di media lunghezza, il mantello sull'addome, e sul colletto, è più lungo del mantello sul corpo principale. I Manx sono gatti molto giocherelloni e intelligenti, devoti alle loro famiglie. Hanno zampe posteriori estremamente potenti che consentono loro di saltare a grandi altezze e correre con accelerazioni veloci e curve veloci. Si dice spesso che i gatti Manx siano come cani sia nella loro devozione per le loro famiglie che nel loro amore per il gioco interattivo. Hanno un grande senso dell'umorismo, e non si preoccupano di fare uno scherzo al loro padrone. Vanno d'accordo con i bambini, e altri animali domestici e sono noti per proteggere le loro famiglie da pericoli reali o percepiti. Se si presenta l'occasione, saranno comunque ottimi cacciatori e in una casa con animali Manx non dovrai mai preoccuparti dei roditori. Fin dalla tenera età, le madri Manx insegnano ai loro gattini a cacciare usando qualsiasi preda a loro disposizione, come scarafaggi, giocattoli di piume, topi con erba gatta e altri oggetti. Non sarà mai noioso in casa con i Manx. Manutenzione e cura. I gatti del Maine non richiedono cure particolari. Sono puliti e ben educati e raramente creano problemi ai loro proprietari. Tuttavia, il pelo spesso con un sottopelo denso, caratteristico dei gatti di questa razza, richiede attenzione. È necessario pettinare il Manx almeno due volte a settimana e durante lo spargimento, ogni giorno. È necessario fare il bagno ai gatti Manx solo se necessario e sempre con uno shampoo speciale. I gatti di questa razza hanno bisogno di una dieta equilibrata e di alta qualità. I gattini crescono molto rapidamente, raggiungendo le dimensioni dei gatti adulti all'età di pochi mesi, quindi il Manx ha bisogno di più calcio e vitamine rispetto ai gatti di altre razze. Di norma, di solito ci sono tre aprile gattini nella cucciolata di Manx, se ce ne sono di più, la possibilità di morte fetale non è esclusa. Se un gatto ha mai avuto più cuccioli, dovrebbe essere controllato regolarmente da un veterinario durante ogni gravidanza successiva. Un'ecografia o un esame a raggi itz è utile un paio di settimane prima del parto per determinare quanti cuccioli sono previsti. Prezzo e come acquistare correttamente. I gatti dell'isola di Manx sono animali straordinari e attraenti, che contribuiscono alla loro popolarità in tutto il mondo. I problemi con la prole riproduttiva portano alla difficoltà di acquisirli, anche in Europa e in America. Non ci sono asili nido registrati in molti paesi. Possono esserci solo offerte di vendita da parte di privati. In ogni caso è necessario prenotare in anticipo l'acquisto di un gattino. Il costo di un piccolo Manx dipende in gran parte dalla sua classe. E anche il pedigree dei genitori incide sul prezzo, se hanno titoli di campione. Quando si acquista un gattino all'estero, il costo di un gattino, includerà le spese di spedizione. I gattini con la coda tagliata possono essere portati in una nuova casa dopo tre mesi, poiché non sono soggetti a malattie tipiche della razza. In altri casi, i Manx vengono acquisiti all'età di quattro mesi o più per garantire la salute dell'animale. Il prezzo minimo per un gattino gatto dell'isola di Manx è di 450 dollari. Aspettando di acquistare un bambino di livello campione, lasciati guidare dal costo molte volte di più. Quando fai un accordo, studia attentamente il pedigree del futuro animale domestico, poiché il genere eccessivo senza coda, influisce sulla salute della prole e non è consigliabile accopiare rampi con rampi, che possono portare a malattie genetiche nascoste. Ricorda, non tutti i gatti senza coda sono Manx. Questa razza ha un fisico caratteristico e un'andatura saltellante. Presta attenzione all'aspetto del bambino. Dovrebbe apparire sano, occhi puliti, orecchie, ano, non avere grafi sulla pelle e punti calvi, ed essere attivo. Guarda come si muove, se ci sono difficoltà a camminare e segni di distrofia degli arti posteriori. Il risultato. I Manx sono gatti di taglia media, generalmente larghi e muscolosi. Gli standard di razza richiedono una testa rotonda, orecchie arrotondate e occhi grandi e arrotondati. Le zampe posteriori di Manx dovrebbero essere più lunghe delle zampe anteriori, il che fa apparire l'osso sacro più alto. Tutti i gatti gatto dell'isola di Manx hanno un pelo doppio con sottopelo morbido e pelo più grossolano. I gatti possono essere di diversi colori e modelli, ad eccezione del punto colore. Possono essere bianchi, neri, tartarugati, bicolori, tabbi e qualsiasi altra combinazione di essi. Sono ammessi anche colori come il cincillà e il fumo. Una caratteristica distintiva dei gatti Manx è solitamente considerata l'assenza di coda, sebbene in realtà non tutti i rappresentanti di questa razza siano senza coda. Nei gatti Manx dalla coda, la lunghezza della coda, può variare da un moncone corto a una coda di lunghezza quasi normale. L'assenza di una coda, è il risultato di una mutazione naturale. La razza è a pelo corto. La varietà a pelo semilungo è chiamata gatto ciriano.